ehi no lori ti è spuntata la notifica lori lori loria 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 mano ma un attimo l'interrotta la prossima va la interrotta no no non l'ho interrotta solo anche lei lori lori vai live e scrivi vai live e scrivi oh c'è uno in chat aspetta vedo la trasmissione è stata interrotta non è questo non è questo non è questo che ce l'ha sconti raga correte in live mi chiamo mattia e m14 camera lori corri in live mi chiamo mattia e m14 gamer corri live lori guarda vi faccio sentire che sono veramente live youtube e o di chiusi sentite avete sentito che siete al vivo mattia m14 mattia m14 non ci siete uno puto tutto 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 ci sono solo io pare maniera ma mia la la stichetta la stichetta ma non mi esse ma non mi esse Sì 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 no si è complicato eh devi saltare al momento giusto la live si! fatto! come? come? ma come mi hai fatto uscire? mi hai fatto la live Matti ma non mi hai fatto uscire è un po' bugato sto livello ah ho capito devi fare... si no 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 è impossibile ah no Matti è bellissima bellissima ma è impossibile come hai fatto Mr. King? no no hai capito come si fa? Lore com'è che si deve... è bellissimo come devi fare? Lore? Matti come si fa? tu nel livello dopo lo vuoi abilitare? ehm l'aiuto oppure disabilitare? cosa vuoi? abilitare abilitare o disabilitare? abilitare eh disabilitare così anche complicato come faccio? no complicato è facile facile cosa è facile? ora voglio perché dico sempre che faccio? no ma il primo non ce la fai a fare il primo? no no ma il dito santa rosalia ma è difficilissimo eh ehm si vero non è facilissimo ma non è neanche troppo difficile perché cosa devi fare? un gioco di tempismo no io odio il terapismo ti voglio aiuti? eh però non ce la faccio mettere in quella a me non servono in tutti gli aiuti mi servono solo nella seconda si vede che vorrei la faccio ce l'ho fatta la rima qua non ho saltato ce l'è ci sei arrivato? si però Matti ho attivato gli aiuti per quale è facile? ho attivato gli aiuti io non riesco a do Matti mi hai fatto cadere guarda ti faccio vedere io come si fa devi seguire Matti 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 sta fermo tu non sei la strada si l'ho capita la strada ma questo non è neanche troppo facile no questo è complicato mica è facile è complicatissimo ma poi se ti metti in mezzo è ancora più complicato Matti aspetta aspetta Matti dai Matti sei un infamone ok Matti sei un infamone però sì eh grazie a me che te l'ho stata assunta vabbè perché io ti ho dato una sfinda per quello ce l'hai fatta tu dovresti rifare il livello ma questa livello è facilissima perché sono stato io ad aiutarti a finirlo perché ti ho spinto più là no barone 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 che perché hai usato me per spingerti più là che cos'è sta roba no Matti hai usato me per spingerti più là ma che cos'è sta roba che è qualcosa che non capisci perché non hai capito sto livello hai capito per me ma ci devo fare di fila certo ovviamente mi si paga tutto mi paga tutto mi si apre la playstation ovviamente mi è usato la fortnite cosa vuoi ancora di più fare? non sei uscito da fortnite vabbè tu non capisci niente sono entrato nella playstation perché non è che ho chiuso l'applicazione no raga questo livello è hard oh ma parli ancora anche questo è hard però tu hai usato me per ci stare Lori se vuoi vengo si grazie aspetto che arrivi perché mi stai ma perché mi siano nella C4? si ovviamente Lori mi devo rifare il livello pure io Matti ma non funziona ma perché mi devo rifare il livello pure io ah c'è pure Lautaro si c'è pure Lautaro è tornato Lautaro grazie 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 grazie